Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkawa e questa è la Masterclass di Power BI. Allora, quest'oggi andremo a vedere come gestire l'importazione multipla di file CSV oppure di Excel, praticamente posizionati su locale piuttosto che su cloud. Rispetto alla lezione 2 che vedevamo la tecnica per importare ogni singolo file, oggi vedremo cosa cambia tra quella tecnica e la nuova tecnica di importazione multipla dei file. Questo per vedere cosa cambia proprio con la gestione del gateway e lì ci viene veramente molto d'aiuto il nuovo sistemino che vedremo oggi. Allora, andiamo nel pratico. Praticamente qui ho una folder dove ho diversi CSV, ok? In locale, partiremo da qui. Qui ho il mio report in Power BI. Quindi entro su recupero origine dati, come facevamo una volta, praticamente andavamo su CSV di testo, ci prendiamo ad esempio questa informazione qua, la prima tabella, facciamo un bel apri e facciamo ad esempio un carica, quindi la portiamo direttamente nel nostro modello. Successivamente diciamo, ok, devo aggiungere un'altra base dati. Allora, torniamo di nuovo a fare praticamente recupera dati. Adesso sta caricando il dato, ok? Recupera dati. Facciamo testo e prendiamo ad esempio questa informazione qua, le caratteristiche, che è una tabella che poi si può legare anche con il WIP. E anche in questo caso facciamo un bel carica e la portiamo sul nostro modello. Quindi noi abbiamo utilizzato praticamente il driver testo, ok? E abbiamo creato due connessioni. Se io adesso vado a fare un pubblica e faccio un salva, ok? Scusate. Salva, facciamo test locale, ok? Salviamo, perché non possiamo pubblicare se non salviamo il report. Ecco, adesso andiamo a pubblicare il report sulla service. Quindi lo sto andando a pubblicare. Intanto accediamo a Power BI service, quindi powerbi.com. Facciamo il nostro solito accesso. Poi andiamo nel nostro workspace personale. Qui avrà anche finito, sì, ok. Andiamo nel nostro workspace personale. Ecco che troviamo il test in locale. Ora il report a noi per il momento ancora non ci interessa, quindi lo togliamo. Il aggiornamento di questo dataset. Quindi qui prendiamo i dati locali, quindi dovremo usare il gateway. Quindi dobbiamo configurarlo come abbiamo visto nella precedente lezione. Andando qui che cosa succede? Che quando premo la freccetta, io mi trovo per ogni file, mi trovo praticamente un gateway da aggiungere. Quindi che cosa significa questo? Che quando faccio add to the gateway, ok, lui mi preconfigura il percorso. Vedete, mi trova il percorso del file. E qua gli devo dire, ad esempio, connessione a caratteristiche. Perché io non posso togliere questa informazione qua. Perché in Power Query è posizionato anche il nome del file. Quindi poi dovrei mettere qua il mio utente di Windows, la mia password e faccio add. Fatta questa cosa, praticamente io avrei installato il primo gateway, quindi la prima connessione, ok. Devo fare la stessa cosa anche col secondo. Quindi dovrei entrare qui e dirgli, guarda, questa è quella del WIP. E anche qua ci metto il mio utente. E qua ci metto la mia password. Facendo così, che cosa succede? Che io, praticamente, sono andato a creare un'altra connessione. Quindi qua ci metto caratteristiche e qua ci metto WIP. E faccio applica, vedete, sono tutte e due verdi. Fatta questa cosa, che cosa faccio? Vado sul mio dataset, faccio un test e praticamente vediamo che lui sta funzionando, sta andando a recuperare le informazioni. Adesso andiamo sui tre puntini in alto che ci sono qua. Andiamo su Setting, andiamo su Manage Gateway e guardiamo le connessioni che ci sono sotto. Io qui mi trovo una connessione per un file e qua mi trovo un'altra connessione per un altro file. Quindi, a tendere, se vado a recuperare tante informazioni dal mio sistema, sotto il Gateway mi troverò tantissime informazioni, tantissime connessioni, tutte distinte. Dopo, magari, se hai cominciato a averne tante, diventa difficile andare a gestirle e a capire anche a chi appartengono, quali sono i dataset che utilizzano queste connessioni per questo Gateway. Allora, la cosa ideale sarebbe gestirne una sola, però diciamo che, appunto, io non posso togliere il nome del file sul full path. Perché è la configurazione che noi abbiamo dato a Power Query all'interno della nostra Power BI Desktop. Difatti, se noi andiamo qui e facciamo un bel trasforma dati, andiamo a vedere l'origine, ok? Vedete, questa è l'origine che io devo configurare su Gateway, perché lui andrà a cercare quello che noi abbiamo messo in Power Query. Questa è la cosa fondamentale. Come facciamo a evitare questo? E lo stesso problema, ovviamente, anche se non andiamo a gestire un Gateway, ok? Quindi, in questo caso, se andiamo su Setting e poi andiamo giù, qui c'è il Gateway perché prendiamo i dati da locale. Ma ipotizziamo che facciamo un'importazione di dati da SharePoint, ok? Comunque il Data Source, qua, ci troviamo per ogni connessione che facciamo a SharePoint, ok? Ci troviamo un file e dobbiamo abilitare le credenziali per ogni singolo file. Adesso non lo faccio perché tanto lo facciamo tra poco nel metodo migliore. E quindi diventa veramente poco utile gestirlo così, cioè non è una cosa fatta bene gestire ogni singolo file singolarmente. Quindi dicevamo, per importare i dati singolarmente abbiamo testo, Excel e così via. Per importarsi i dati singolarmente si usa il driver web, tendenzialmente. Se invece vogliamo importare i file multipli e poi configurare il Gateway con una sola connessione, si fa così. Allora, adesso noi andiamo ad eliminare questa tabellina e la rimportiamo nel modo corretto. Quindi eliminiamo queste due qua dal modello, ok? Eccoci qua. Adesso cosa facciamo? Allora, al posto di andare a recuperare con il driver testo, ok? Andiamo su altro, quindi andiamo giù su altro. E sul pannellino che praticamente qua ci appare, ok? Noi prendiamo, se andiamo da locale, prendiamo praticamente il driver cartella. Ecco qua il segreto per il dato in locale. Poi vediamo quello su web che è molto simile. Qui andiamo qui e lui ci dice, guarda, ok, che cartella vuoi andare a importarti? Noi facciamo un bel sfoglia, anzi non facciamo sfoglia, prendiamo direttamente il percorso da qua, ok? Eccolo qua e lo mettiamo qui. Perfetto, io voglio avere la mia sorgente che è questa, faccio ok. Se uso il driver cartella e poi faccio un bel trasforma dati così andiamo in Power Query, che cosa succede? Arrivo in questa folder del mio computer e lui dentro in questa folder, quindi l'origine dove punta? Su questa folder qua, ok? Il driver punta su questa folder, ecco qua il segreto. Quindi poi lui dentro qua mi vede tutti questi file. Perfetto, io voglio importarmi il WIP e voglio importarmi le caratteristiche, dicevamo. Allora facciamo una cosa semplice, facciamo un tasto destro, duplica. Questa la chiamiamo WIP, ok? E questa la chiamiamo caratteristiche. Perfetto, vediamo che abbiamo sempre su sorgente, su tutte e due, abbiamo questa folder, ok? Di origine. Perfetto, adesso esplodiamo, andiamo qui, andiamo su binari, su WIP, facciamo binari, così noi, ecco, abbiamo esploso praticamente, lui crea in automatico i passaggi qua sulla destra, abbiamo tirato fuori l'informazione del WIP. Poi andiamo su caratteristiche, eccola qua, dov'è? Quassù. E premiamo binari qua, così facciamo l'esplosione in questo file. Qui non ci ha fatto l'intestazione di primo livello, quindi andiamo qui, andiamo su home e facciamo usa la riga come intestazione, ok, eccola qua. E poi questo cancelliamo il modificativo, il modificativo che non ci serve a nulla. Perfetto. Adesso noi abbiamo praticamente fatto la stessa cosa che avevamo fatto prima, solo che sulla origine noi abbiamo la stessa path, perché abbiamo usato il driver cartella. Quindi adesso facciamo più di applica, lui importerà le nostre informazioni, salviamo anche il nostro modello, e poi andiamo praticamente a fare pubblica e vediamo come funziona il gateway adesso in questo caso. Ok, si è salvato, andiamo a fare public, lo mettiamo sull'area personale, sostituisci, perché avevamo in precedenza già caricato il modello, adesso me l'ha praticamente sovrascritto, ok, vedete qui ha finito. Adesso andiamo a vedere come funziona l'aggiornamento di questa cosa, perché è cambiato proprio il sistemino. Quindi se noi adesso andiamo qui e facciamo un bel setting, e andiamo su gateway, ok, e premiamo la freccetta. Non vediamo più due sorgenti, ok, ma ne vedo solo una, perché devo solo configurare la origine, quindi la path della mia cartella origine. Quindi qui cosa farò? Add gateway, ok, vedete. Lui ha cambiato il tipo di driver che è folder, perché lo interpreta da quello che c'è dentro nel dataset, per come noi lo abbiamo configurato in Power Query, e lui qua mette la sorgente. A questo punto io qua potrei mettere il nome della cartella, sorgente, ok, e qui ci metto sempre i miei credenziali, lo do a veico, e qua ci metto lo password del mio computer, e faccio un bel add. Fatta sta cosa, praticamente, ho sbagliato l'utenza, facciamo add, ecco che io praticamente ho creato il mio driver. Quindi andiamo qui, ok, si è connesso, noi diciamo che ci connettiamo alla sorgente, facciamo applica. Perfetto. Se noi andiamo su data source, ok, ce n'è una sola, e se noi poi andiamo appunto su test locale, ne ho configurata una, ma dentro ci sono due file, facciamo refresh, vediamo che effettivamente funziona. Quindi, se parliamo di locale, ma poi questo vale anche per il cloud, e vediamo come connettersi anche col cloud, che è molto simile, possibilmente dovete cercare di avere delle cartelle tematiche, in modo poi da gestire proprio il gateway nel migliore dei modi. Quindi se poi andiamo su setting, managing gateway, ok, e apriamo questa cosa qua, queste due alimentazioni singole non servono più, quindi possiamo andare qua giù in fondo, sui tre puntini, e fare remove, perché non ci serve, e cerchiamo di lavorare sempre con le sorgenti, quindi con le folder sorgenti, in modo da ridurre al minimo la gestione delle sorgenti che stanno sotto il gateway. Non c'è un problema se ne fate anche mille, è che proprio nel lungo periodo, poi se gestite tante cose, rischiate poi che vi perdete e non capite, soprattutto se non date nomi ben parlanti a queste connessioni qua, perché magari succede che poi un giorno dovete anche andare a modificarle, quindi magari non mettete solo il nome della cartella, ma mettetele proprio parlanti, in modo che si capisca anche bene come funziona, a parte il fatto che comunque se ci cliccate sopra, vedete esattamente dove puntano. Ok, questo è per il locale. Adesso facciamo praticamente un esperimento per SharePoint. Allora, qui noi prendiamo ad esempio questi file qua, andiamo ad esempio su SharePoint, quindi entriamo su office.com, arriviamo qua e andiamo ad esempio sul bottoncino qua giù che è SharePoint. Qui creiamo un sito, ho già fatto vedere come crearlo nella parte 2 di questo corso, e andiamo ad esempio su test. Quando io arrivo su test e premo su documenti, entro sulla parte dove io posso andare a condividere le informazioni con chi decido che possa accedere a questo sito, ok? Qui adesso ho messo la base dei dati, le foto di proposta, e qui ho creato una cartella col pulsantino nuovo. Ok, quando facciamo nuovo possiamo fare diverse cose, ho fatto una cartella. Dentro a questa cartella cosa ho fatto? Praticamente ho trascinato tutti i file che avevo qui in locale, li ho trascinato dentro alla folder di SharePoint. Allora appunto noi dicevamo che, per importare informazioni da OneDrive, piuttosto che da Teams, piuttosto che da SharePoint, avevamo appunto visto il driver web. E come facevamo? Prendevamo appunto, aprivamo in locale il file e prendevamo l'indirizzo dal menu file. Però questo ci fa importare il file singolarmente, quindi quello va benissimo se ne importiamo uno, ma se dobbiamo importarne più di uno sul nostro dataset, conviene gestire sempre il dato in gruppi, e quindi cerchiamo di mettere tutti i dati sullo stesso sito, perlomeno, quindi sullo stesso sito, perché poi se abbiamo le informazioni che arrivano da più siti, ok, lì non ci possiamo fare niente. Però cerchiamo di utilizzare lo stesso sito. Adesso cambiamo driver, ne utilizziamo un altro che è un po' più potente, e va benissimo per SharePoint, quindi se potete utilizzate SharePoint. Andiamo qui, adesso ricancelliamo di nuovo queste due tabelline, le importiamo praticamente dal nostro cloud. Quindi al posto di utilizzare il driver web, ok, andiamo ancora una volta su altro, e stavolta gli diciamo che vogliamo fare un'importazione da cartella di SharePoint, se non vi compaiono qua, eventualmente basta ricercarli qua su. Quindi facciamo cartella di SharePoint. Come faccio a recuperare quindi l'insieme, come usa? È lo speculare al driver cartella che vedevamo prima per il locale, quindi qui mi dice, guarda dammi l'url del sito, quindi qual è l'url del sito? Andiamo qui, è questo qua, noi gli diamo anche il nome del sito, praticamente è il nostro dominio punto SharePoint, dominio aziendale punto SharePoint punto com, sites, test, ok? Noi prendiamo tutta questa informazione qua senza lo slash, ok? Andiamo qua e prendiamo questa informazione. Test è il nome del sito, vedete il sito si chiama test. Siti è perché sono dentro all'area siti di SharePoint. Adesso andiamo su Power BI, andiamo qui, mettiamo appunto questa informazione. Quando noi gli diamo l'ok, uscirà questa finestrella. Quando arriviamo qua, gli diamo praticamente le nostre credenziali con l'account Microsoft, quindi andiamo a account Microsoft, facciamo un bel accedi, mettiamo praticamente il nostro indirizzo, ok? Lo selezioniamo, e lui si connette, se vi chiede la password la mettete, la due fattori, eventualmente se la ve la chiede e vi connettete. Una volta fatta questa cosa qua, facciamo connetti, e praticamente noi, vedete, arriviamo praticamente alla stessa cosa di prima che avevamo con il driver cartella che ci permetteva di importare i dati della locale. Se facciamo trasforma, ecco che otteniamo appunto lo stesso risultato. Quindi anche qui facciamo un bel duplica per avere l'informazione doppia. Facciamo WIP, qua facciamo caratteristiche, qua ci esplodiamo il WIP premendo su binari, è proprio uguale all'altra, e qua esplodiamo le caratteristiche e premendo su binari. E anche qua abbiamo visto che non ci fa l'intestazione, lo facciamo noi a manella. Ecco qua, fatto. Perfetto, chiudi e carica. Abbiamo creato il nostro modello, adesso lui le importa da cloud. Perfetto, fatta questa cosa, andiamo praticamente, adesso c'è sempre il tempo di caricamento su Power Pivot, che bisogna attendere un attimo, poi salviamo il nostro file e praticamente andiamo a pubblicarlo e vediamo praticamente cosa cambia anche col cloud. quindi ecco, lo andiamo a pubblicare sulla nostra area di lavoro, sovrascriviamo il precedente che tanto non ci interessa. Perfetto, allora qui ha quasi finito, perfetto, ha finito. andiamo su Power BI e ecco che noi ce l'abbiamo praticamente qua, facciamo un F5 per sicurezza, così sono sicuro che vedo quello che abbiamo appena caricato. Eccolo qua. Se andiamo qui a vedere che cosa c'è dentro, facciamo Setting, ok, e andiamo appunto su Data Source, vedete che ne vedo una sola, invece, nelle puntate che avevamo visto col driver da web, qui avremmo visto una connessione per ogni file, proprio uguale al cartella. Quindi, se ci chiede credenziali, anche qua ne dobbiamo gestire una sola. Se abbiamo 10 file col connettore da web, dovremmo mettere le credenziali su 10 file. Invece, questa cosa qua ci semplifica la vita, perché basta inserire solo una volta. Quindi, autorizzazione 2, va benissimo anche il public, vedete che viene autorizzata tutto il sito test, quindi tutti i file che sono all'interno del nostro sito di SharePoint. e lì facciamo semplicemente solo una volta l'accesso e poi lui lo tiene appunto in memoria, vedete, aggiornato. Quindi, se noi poi usciamo e facciamo un bel refresh, ecco che il nostro modello si refresherà. Queste sono cose importanti da sapere all'inizio, perché se partite a fare tutte connessioni, come vedevamo all'inizio, che va benissimo anche connettersi con un file solo e utilizzare il driver da web, la cartella va utilizzata se appunto dobbiamo importare più informazioni. Però tenetene conto, insomma, quindi utilizzare il web, se avete solo un'alimentazione, se non avete più, cercate di utilizzare il driver comune della cartella, quindi cartella oppure SharePoint. Bene, anche con questa lezione è tutto, spero sia stato di vostro gradimento, se così è, lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete sostenere il canale contribuendo appunto alla sua crescita, magari pensate a stipulare un abbonamento sempre col bottoncino abbonati qua giù, se invece volete semplicemente lasciare un ringraziamento per questo specifico video, sempre sotto il video trovate il bottoncino grazie per lasciare qualcosa. Vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!